Rosa Fil, E-Motion Picture Studios Io, Katia, accolgo te e Danilo come mio sposo e prometto di esserti fedeli sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Danilo, accolgo te, Katia, come mia sposa e prometto di esserti fedeli sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi è? Ma... Ma state qui, qui. Sì. Ha fatto pure il piaggio di nozze, hai visto? Alle sette e mezza, alle nove e mezza ce ne andiamo. Vediamo te non fatti curacce. Ti sei spogliata? Sì? Rivestiti, ti smoglio io. Ma anche la biancheria? Ehi, ragazzi, moci, su, dai! E mica dobbiamo fare per forza bella figura davanti a qualcuno. Possiamo fare pure i nostri controlli meno impettiti. Parmigia, pancia è fuori! Vitale, fatelo un po' di nozze, come una bella sigaretta. Ma io fumo. Buongiorno. 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 L'ho fatto dieci giorni fa. Ma che c'è? Pensavo ti sarebbe piaciuto. Me l'ha fatto un mio amico, si chiama Biondo. Non sai quanto è brutto. Mi sa che è anche mezzo gay. E ancora l'altro mezzo, purtroppo per lui. Hai gli occhi aperti? Nemmeno tu li hai chiusi. Altrimenti vuoi far sapere che tu li perdi. E quando non mi guardi. In genere le persone si incontrano, magari si piacciono. E poi scelgono di conoscersi. Invece a noi è successo il contrario. Ci siamo conosciuti e piaciuti prima di incontrarci. Ma sai che vuol dire questo? Nemmeno io lo so. Però secondo me vuol dire qualcosa di buono. Pure che esci tra cent'anni io ti aspetto, perché ti appartengo. Pure che non si può sentire. Casomai, casomai meglio anche se. Ma poi perché le devi dire che esci tra cent'anni se gliel'hanno dati trenta? Oh, manco una lettera, so buona a scrivere. Ma cazzo ci fa lui con me proprio? Che cazzo ci fa? Ti la scrivo io la lettera. Avvicinami una seggiola. Katia, io gli voglio scrivere una lettera al giorno. Una per ogni giorno messa a testo. Ma sai quante tono? Eh, se fa buona condotta siamo nelle 6.7 mila lette. Quindi non dobbiamo fare delle due. La conosce la tua scrittura? No, ci ha messo la tua occasione. Allora, è perfetto. Allora, tu mi dici e io scrivo. Io scrivo, ma tu mi dici. Caro Danilo, prima di cominciare a scriverti voglio fare una raccomandazione agli ispettori che aprirà questa lettera. Ne scriverò qualche migliaio, quindi che si metta pure comodo. E ora veniamo a noi. So come... Aio! Ormai l'ho visto. Aio! So come ti senti in questo momento. Come uno che deve combattere da solo contro il mondo intero. Ma voglio dirti una cosa. Tu non sei solo. Io sarò con te sempre. Seguirò le tue scelte, obbedirò alle tue decisioni. Ti difenderò da chi vuole attaccarti. Ha cominciato con lo stronzo di tuo fratello. Ma dobbiamo proprio dirlo? Eh sì, eh. O qua l'ha sempre sfruttato Danilo, ora lo rinnega. Mi fa proprio schifo. Fossi anche tuo fratello. Io vicino a te ho imparato a guardare la gente negli occhi. Ho imparato l'orgoglio. E ho imparato che chi fugge è sempre colpevole di qualcosa. Ci credo. Giurami che non ti piegherai mai al giudizio di nessuno. Perché chi giudica gli altri lo fa per assolvere se stesso. Amore mio, questa notte sogna me e dormi con gli angeli. Ti amo, Rosalba. Siamo un uito. Ah, ho risposto al tuo telefonino. Chi era? Uno con cui c'è un appuntamento stasera. Io non ho nessun appuntamento stasera. Ce l'hai? Te l'ho preso io. Rosalba, si può sapere con chi cazzo vado a cena stasera? Di preciso non lo so. È uno dell'Ips. Si deve dire qualcosa sulla pensione di invalidità. Mamma mia, che voce che c'aveva. Che cosa gli hai detto? Mamma mia, che voce che c'hai? Però sei stata tu a dirglielo. Cioè, lui pensava di parlare con te. Senti, Rosalba, lo so che vuoi movimentarmi la vita e ne sono contenta, davvero. Però sarei molto più contenta se le cose le decidessimo insieme prima. Per esempio, adesso vorrei sapere che cos'è questa cosa che mi stai per mettere. Fighissimo. Questo roll-on avrebbe andrebbe in frigo per svolgere l'azione drenante antistress. Però secondo me funziona anche così. Ti illumina tutto lo sguardo. Stasera fai così. Adressa, stasera, se non mi ringrazio. Dicevo, il Dipartimento per i Servizi Civili del Ministero, poi la Commissione per gli Invalidi Civili dell'ASL e alla fine per ultimi noi dell'Ips. Questo è l'iter burocratico. Quindi per avere una pensione in verità ci passano anni. È una vergogna. Che carino. Già, ci mi cari? Piccolo lui. Ciao, ciao, ciao. Io li adoro. Io avevo un Carlino. Indovina come l'ho chiamato? Carlino. Se penso che c'è chi ha il coraggio di abbandonare i suoi autostrada, guarda che vergogna. Vabbè, si diceva. C'è una delibera del 2 maggio 2001, è malata dalla regione, che ridefinisce il concetto... Passi un po' di vino. Sì, sì, scusa. Grazie. Dicevo. Ah sì, che ridefinisce il concetto di disabilità. Chiunque abbia una menumazione fisica tale da ridurne l'autonomia anche solo del 10% e da considerarsi a tutti gli effetti disabile, con tutto ciò che ne consegue. È un disabile. Poi, anche questa espressione disabile è fortemente desprimatoria. Senti, anche questo... Grazie. Guarda questo prefisso negativo dis, la dice lunga. Qualcuno ipocritamente preferisce dire diversamente abile, però si sente comunque il pregiudizio. Io invece ho proposto, in commissione, di sostituirla con ugualmente abile. In commissione. Ugualmente abile? Perché penso che i tempi siano maturi. Ma tu sei fischiare alla peco rara? Alla peco rara? Eh? Che ne dici? E questo? Questo lo sai fare? Eh? Ma lo sai fare neanche questo? No. Punto primo. Se sentiamo l'urgenza di sostituire l'espressione disabile, facciamolo direttamente con molto più abile. Almeno abricciamo i tempi. Punto secondo. Se mi inviti a cena sperando di scoparmi... Sì. Sei normale. Ma se speri di farlo parlandomi di delibere regionali, di pensioni di invalidità, sei un perverso vero. E io urlo per chiedere aiuto. Oddio. Oddio, via quella faccia da sfigato. Facciamo così, facciamo un patto. Io posso anche dartela. Avvicinati. Fai il giro, che sono ugualmente abile, no? Però così mi fai sentire davvero uno stronzo. La stronzaggine può essere la cosa più interessante di un uomo. Dipenderà lui. Amore mio, c'è Irma, la macellaia, che quando qualcuno le chiede notizie di suo marito, dice che è andato all'estero per lavoro. All'estero. Ma se quello non è mai andato oltre Frosinone. Lo sanno tutti che è stato arrestato, ma fanno finta di crederci. Beh, una che si vergogna di suo marito non è una donna, secondo me. Irma la macellaia, sei una troia. Io quando sto in mezzo alla gente guardo tutti dritto negli occhi, come mi hai insegnato tu, perché non ho nulla di cui vergognarmi. Sono gli infami, i bastardi, i traditori che devono guardare. Amore, oggi è da quando mi sono svegliata che non ho voglia di parlare. E infatti sono a 18 ore che non rispondo a nessuno. Nemmeno a nonna, che mi ha chiesto se volevo gli gnocchi. Povera. L'amore vero, quello che provo io per te, è un castigo, perché ti diano gli occhi spalancati di notte. Eppure mi sento meno sola di molta gente che incontro. Tu ci sei sempre, giorno e notte. Mi dai coraggio, mi consigli, mi doi. Danilo, penso anno due e divento pazza. Provo a dare un senso al nostro rapporto, un futuro, uno sbocco possibile, ma non lo trovo. O magari non c'è. Non c'è nemmeno una data di inizio da segnare sull'agenda. Ma se quello che provo per te è così irragionevole, illogico, se non è regolato dal tempo, dal buonsenso, allora è tutto a posto. Vuol dire che ti amo davvero? L'amore o è sconsiderato o è qualcos'altro. Rosalba la pazza. PS, l'amore, tutti ne parlano. Io l'ho conosciuto. Buongiorno. Eccoli. Possiamo aiutarvi? Tutto a posto, grazie. Anzi, scusi, eh. Non è che me lo tieno un attimo? Come? Grazie. Prego. Grazie, gentilissimo. Ecco. Ma che sei matta? Scusi, eh. Se mi aiuta con la carrozzella, che è un po' pesante. Va bene. Prendo io questo. Voglio raccontarti una cosa. Ieri ho dato un pugno in faccia al commesso di un negozio che voleva fregare una vecchia. Non so che mi è successo. Potevo farmi gli affari miei, invece no. Ho saputo che anche tu hai picchiato un detenuto che voleva fare il prepotente. Stai attento. Però hai fatto bene. Che cazzotto al commesso di un negozio? Ma chissà che pensa di me. Penserà che hai fatto bene. E poi bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. Sì, però io, insomma, il cazzotto mica glielo ho dato. Cioè, sei stata tu a inventartelo. Non hai mai avuto voglia di venare uno? Quasi tutti i giorni. E allora ero come se l'avessi fatto. Dai. E allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio farti felice per chiedermi tutto quello che vuoi, per farmi tutto quello che vuoi, proprio tutto. Chiudi gli occhi, fai finta di dormire. Mi aspettavo qualcosa di diverso, tipo manette, spiglioni nei capezzoli, un amplesso vestito da veti Oscar. Da quando sono piccolo mi sogno una donna nuda, che dorme su un fianco. Io non so chi è, non la vedo in faccia. Entro nella stanza, la scopro e me la faccio e lei non si sveglia. Non si sveglia? Non si sveglia. Non si sveglia. Sara, una che lavora con me, dice che l'amore non esiste, che è tutta un'invenzione della nostra testa, tipo un'illusione. Ma ti pare un discorso? Cioè, secondo lei le coppie stanno insieme perché lo decidono. Perché gli conviene, non per amore. Infatti per tanti è così. Tu che pensi? Allora l'amore che provi per un figlio, che non è amore quello, o per Dio, eh? Non è che quello non passa mai. Invece... Comunque l'amore fra un uomo e una donna a volte... A volte passa. Lo so che sono io che sono fatta male. A me i rapporti non mi durano più di otto mesi. Hanno pure quattro. C'è un altro? Vabbè, so due o tre volte che ci esco, eh. Non è bellissimo. Cioè, non è nemmeno bello. Però... È carne, che ti posso dire? Indovina cosa fa? Carabiniere. Lo conosce pure a Danilo. Tipo l'ha arrestato un paio d'anni fa. Dio, come sono stronza. Sono stronza? Sì? Ma no. Oddio, sulle tre stavolta mi licenziano. Ma come fai a scendere quando arrivi a casa? Mi faccio aiutare da Di Gennaro, quello dell'interno di me. Ma chi, lo smilzo? No, quello non ce la fa, poi ti chiedo un bacio. In quel caso sono io che non ce la posso fare. Dai, chiedo all'elettrauto, sta tranquilla. Ciao. Ciao. Amore mio, oggi ho avuto paura di perderti. Ed è stata una sensazione orribile. Come un dolore tra stomaco e petto. Tu penserai che sono un idiota. Come fa uno che sta fuori a perdere uno che sta dentro? Il fatto è che non ti posso spiegare tutto. Sappi solo che da un po' di tempo sei l'unica ragione per cui mi alzo la mattina. Non credo nei miracoli, ma... Ma a volte nella nostra vita succedono cose che non sono previste e che improvvisamente le danno un senso. Questo solo so. Perché tu hai dato un senso a tutto quanto. Valeria, Valeria e mia non vanno a prendere la posta. Quella di Rosalba? Sì, sì, grazie. Ciao, Valeria. Buona giornata, grazie. No, non le leggo. Non lo voglio sapere cosa c'è scritto. Sono una stronza? Vabbè, sono una stronza. Tanto lo sanno tutti. Così me lo sa anche lui. Mi rispondi al telefono? Sono bravi loro, eh? Pensassero quello che cazzo gli pare. Dov'è? Ma loro chi? Pronto? Sì, tua sorella. Chi era? Non lo so, ma si curasse. Si sentiva un soffio catarroso. Ah, è quello dell'Inps. Chiamo per farmi sentire che ha fatto progressi col fischio. Perché quando ci si mette insieme non servono tante spiegazioni? Basta un bacio, una scopata. E invece quando ci si lascia bisogna spiegare. Katia, io c'ho tutta la vita davanti. Oddio, scusa. Ho fatto una grezza. Scusa. Guarda, facciamo una cosa. Smettiamo di scrivergli. Vedrai che capisce. Per te è pure una rottura di palle in meno, eh? Mo' vado. Ciao. Katia, ti voglio bene. Cara Rosalba, sono l'unico che gli arrivano tante lettere tutti i giorni. Loro della sorveglianza si pensano che dentro chissà che ci trovano e le aprono tutte. Anche questa lo so che l'aprono. Ah, scemi! Comunque volevo dirti che tu sei una donna speciale. Uno non si raccorge subito perché a voce parli poco, dici le parolacce. Invece nelle lettere sei un'altra completamente. Ieri mi hanno messo in scena da me un infame, uno che ha ammazzato un ragazzino. Si è avvicinato allo scatolone dove ci tengono le lettere tue e ne ha presa una in mano. Gli hai rotto il braccio. Caro Danilo, mi chiamo Katia e ho la distrofia musco. Sì, così si spaventa. Caro Danilo, sono un'amica di Rosalba. Anzi, lo ero perché ora ti sto scrivendo. Sono io in realtà quella che... Oh, Moreno. Eh, Moreno, sono Katia. Che poi io sono uno che non ripiglia sonno facilmente, capito? Infatti erano le tre di notte, ho pensato... Sarà una cosa urgente. Ma che è una cosa urgente? Non so, deve uscire qualche parente. Basta che non è un problema di salute. Non è anche un problema di salute, vero? Ho capito. Mi faccio gli affari miei, va? Fermati. No, vai, 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 vai. Che faccio, ti aspetto? No, Moreno, grazie, scusa, poi ti chiamo io. Devi parlare con il direttore, il dottor Filangeli, ho capito bene. Proprio lui? Sì. Ma ce l'ha un appuntamento? No. Il dottore non c'è. L'aspetto. Non torna. Prima o poi torna. È in ferie. Non ho fretta. Ma tocca da voi così confortevole. No, che poi voi sarete sicuramente in regola con la delibera, quella emanata dalla regione il 2 marzo del 2001, sui servizi per i disabili. Non ancora? Vabbè, niente scandali. Che poi se dovessi aver bisogno di andare in bagno, mi può dare una mano lei? Non è complicato perché con un braccio mi sostiene e con l'altro... mi dispiace? Grazie, perché sta la sigaretta? Carina, su va. E poi dice, bisogna dare una mano ai disabili a vivere una vita normale. Io potrei anche avere un'arma, lo sa? Qui i suoi colleghi non mi hanno nemmeno controllata. Adesso dico, le sembrano male che una ragazza solo perché sta su una sedia a rotelle non può essere pericolosa come una persona normale? Voglio essere pericolosa come una persona normale. Non le sembra una richiesta recita? Mi sa che chiama un striscio la notizia. Possiamo alzare un po' il riscaldamento? Guardi, lei non se ne accorge, ma qui siamo veramente a rischio broncopolmonite. Vedo se è tornato dalle ferie il dottor Frangeli. Non è che io non voglio incontrare le persone, signor Emina. Anzi, io farei questo dalla mattina alla sera pur di lavorare un po' in meno. Questo è il problema. La vedo, lei si accomodi pure qua. Cioè, si accomodi, insomma, stia lì. Il problema dei tribunali, il ministero, l'amministrazione, sono tutte incombenze inevitabili. Vede queste cartelline? Io ognuno di questi devo mettere perlomeno quattro firme. Sono una settantina. Se lei è brava in matematica, faccia un po' lei. In realtà sarebbe opportuno fare una petizione per la riduzione delle firme. Però date che anche la petizione richiede una firma, a questo punto io ne la faccio proprio. Così perlomeno una firma io la risparmio sicuramente. E a questa mia battuta, in genere, devo dire che perlomeno un sorrisetto me lo fanno sempre. Ma se lei si deve proprio sforzare, signorina bella, io posso chiudere un occhio e la perdono. Come si chiama il detenuto? Danilo Torriero. Torriero. Ecco, Danilo Torriero. Allora, dunque, condannato dalla prima corte d'assise al tribunale di Roma, ad anni 30 di reclusione per un omicidio volontario premeditato. Il profilo detentivo, glielo dico subito, non è molto positivo. Viene tenuto per l'opinio isolamento, per pessima condotta, aggressioni, atti di vandalismo, eccetera, eccetera, eccetera. Le due settimane fa si è anche reso responsabile della rottura volontaria dell'avambraccio sinistro di un suo compagno di cella, senza una ragione plausibile. Devo andare avanti? Sì. Io non ho capito se lei è una parente, cos'è moglie, fidanzata, sorella? No, io non lo conosco. Cioè, e lei perché è venuta qua, mi scusi? Voglio incontrarlo. Ma, pensi che per un attimo ho temuto che lei stesse facendo una qualche richiesta bizzarra tra il riguardo, invece lei ha semplicemente desiderato di incontrare un detenuto molto pericoloso al solo scopo di farne conoscenze. Ma guarda un po'. E come vorrebbe conoscerlo? Devo prenotare qualche posto per lei? Senta, lei è spiritosissimo, davvero. Però io non ho tempo da perdere. Pure? Ah, cioè io mi dovrei sentire mortificato perché lì ho sottratto del tempo prezioso. Ma lo sa qual è la mia risposta? No. Strano paese. Quale? Italia, dico. Ah, per l'anno proprio. Se non paghi una multa, vengono a casa e ti portano i miei televisori. Ah. Però se non paghi miliardi di euro di tasse, lo Stato in qualche modo provo a perdonarti. Esattiva. Se ammazzi uno ti fai il gasto. Però se sei un terrorista e di persone ne hai ammazzate tante, dopo qualche anno sei fuori. Eh, perché bisogna pur vuoltar pagina. Le celle sono... Siamo tutti pigri, individualisti, furbi. E anche diffusi. E all'occorrenza anche un po' razzisti. Eppure, anzi, forse proprio per quello. Che se una ragazza come me, un'andicappata, un'infelice, come si diceva una volta, vengi ieri a raccontare che il direttore di un carcere si è approvato con lei, affittandosi della sua ammazzone durante un colloquio. Ebbene, tutti sono disposti a crederli. Anche se non è vero. E così. Zack. In un istante. Quei tutti si rimettono la coscienza a posto. Già lo vedo. Associazioni mobilitate, opinionisti sdegnati. Tutti a linciare quel povero direttore di carcere. Che non aveva fatto altro nessun dovere. Non è giusto? Non è giusto. Ma lo sai che questo si chiama ricatto? Mi faccio schifo. E neanche conoscenza. Lei sta offendendo la categoria degli handicappati. Che si offenda? Voglio leggere la procedura che riguarda i rapporti con le persone esterne all'istituto. Così si renderà conto della mia assoluta incapacità ad accontentarla. Anche se io vorrei accontentarla signorina eh. Non crederà mica che io non voglio. Ci mancherebbe che io non voglio accontentare lei. Che è una persona come dire insomma normale ma assolutamente più sensibile. Eccolo qua. I detenuti devono essere utilizzati. Andarono a chiamare un altro elefante. Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela. E ritenendo la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. Quattro elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela. E ritenendo la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. Eh sì dottore guardi l'accontenterei volentieri. Però purtroppo le sale sono tutte occupate. A parte quella del 41 bis ma non so se è il caso. Va bene quella? Va bene quella. Grazie. Io non c'ho fretta. Ma la vedi quella faccia di cazzo là? Quello tra cinque minuti ti fa uscire. Caro Danilo lo so come ti senti in questo momento. Come uno che deve combattere da solo contro. Torriero! Torriero! Questo non è consentito! Torriero! Come ti chiami? Cati! Vito! Al parol tuo bisco, adesso. Andiamo. Fermo, calmo. Buono. Calmo, tu vieno. Guarda, veda. Len, prima o poi gli spacco la faccia a quello lì. E calma, calma. Qui non c'è un bisogno per ora. Accompagnate il collega a prendere il bicchiere d'acqua. Dai, dai. Vidale! E che fai? Dormi? E' scimo ma è simpatico. L'altro giorno mi si è messo a piangere perché l'ho chiamato faccia di cazzo davanti a tutti. Allora io gli ho detto se smetto, ti in cambio che mi dai. Ti pare a cucinare, mi ha detto. Così adesso so fare pure di ceci, l'orecchiette vuole fare. Però quando siamo soli, lo chiamo ancora faccia di cazzo. Due cose sono brutte in carcere. I rumori, che sono sempre quelli. E il legno. Che cos'ha il legno? Non c'è. Solo ferro e cimento. Va bene ragazzi, permettetemi a questo punto di utilizzare il legno di un legno di un quadri monico come mezzo assolutamente privato. So che non si fa normalmente, non lo faccio, ma oggi vi chiedo il permesso perché devo fare gli auguri ad una signora veramente speciale. Qualunque cosa ti succeda, qualunque cosa, tu non ci ripensare. Qualunque cosa mi succeda, sei tu che non ci devi ripensare. Io non lo so mica perché hanno inventato il pianto. Chi piange non fa pena. Chi piange rompe solo i coglioni. Nelmeno te mi fai pena. Promesso. Perché sei sulla seggiola? Distrofia muscolare. Ti guarisci? Pare di no. Ti tocca passare tutta la tua vita là sopra? Altri sette anni. Perché sette? Tre anni fa il medico mi ha detto che me ne restavano dieci. Il conto è facile. E vai un po'! Te lo dico subito. Detesto quelli che si impietosiscono per me. Quando vedo uno che fa la faccia triste e gli occhi buoni mi viene da vomitare. Ma chi si impietosisce? Guarda che caschi male. Ma poi perché mi hai riempito così scusa? Eh? Tu dalla vita in poi stai bene. Dalla vita? Sì vabbè come si dice. A parte le gambe. Dalla vita in poi va benissimo. Puoi sapere perché sto dentro? No. Invece sì. Ho ammazzato uno. L'ho dichiarato pure al processo. Guarda che non c'è un cazzo da ridere. No scusami che stavo pensando alla faccia che ha fatto il tuo avvocato quando hai rilasciato questa dichiarazione. E' merda. Come la faccia di tutti gli avvocati. Vabbè non sai chi sono e quello che faccio ai prossimi trent'anni. Perché non t'anzi e non te nemmeno la svelta? Eh. Anche volendo. Ascoltami la prossima volta dobbiamo farci dare l'altra salita. Qua prossima volta? Da quella senza il territorio. La conoscerai? Sì vabbè la conosco allora. Perché il dottor Filageli ha detto che... Katia mi stai a sentire. Katia non hai capito? Mi stai a sentire. Ci sono due tipi di uomini. Quelli tranquilli con cui ci vai a prendere un gelato in centro. Ci vai in vacanza. Ti ci fidanzi. Se ti gira ci fai pure un paio di figli. E poi ci sono quelli come me. Ocuni non c'erano cazzo di niente. Torriero. Torriero. Mi che era finito l'orario. E che lo vuoi fare da solo il colloquio? Cammina va. Se prima eravamo in dieci a ballare lalli-galli, adesso siamo in... L'orario. Io non so che dire. Quando è così è meglio che non lo indice. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Va a fanculo. Bravo. Bravo. Ma è così che funziona. Il detenuto manda a fanculo la guardia e la guardia non reagisce. Ma sai perché? Perché detenuti e guardia non possono essere amici. Vedi Vitali, io non ho debolezze. Io sono un bastardo. Io sono un bastardo. Questo secondo noi. Bastardi come loro. Solo che loro sanno da la parte sbagliata. giusto? Giusto? Prego. Ah, Torriero, lo sai perché la guardia non reagisce agli insulti? Perché le sue soddisfazioni si prende in qualche altro modo prima o poi. scusate, scusate. Potete farmi una portesia? Mi consigliate questa lettera dei ragazzi della sorveglianza? Lì a penitenziario? Ok. Grazie mille. Torriero, vediamo che c'è scritto. Caro amore mio, è stata una notte che addirittura è una sensazione. C'è una cosa che non ti ho mai detto. E come fa? Ti voglio prendere, ti amo. Niente di importante, Torriero, niente di importante. Le solite cose. Lo sai quante non ho lette delle lettere così? All'inizio sono tutte quante innamorate e te ne scrivono una a giorno. Poi una settimana. Dopo tre anni che stai qui dentro, se tutto va bene, uno ogni sei mesi. E lo sai perché? Perché lei, la fianza tua, si sta facendo sbattere da qualcun altro. E non ce può fare niente. Tu stai qui dentro. E lei... E lei è stata fatta per capire. 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 Giorgio, schai! E' per me? Lo apro? Ma che si passa? Mettitelo. Ti avrà accostato un botto? Sì. No, lo vedi? Oh, piantala! Non mi è accostato niente, l'ho rubato. Come l'hai rubato? Sono entrata di corso in un negozio, ho steso il commesso con un calcio in faccia, poi sono saltata dietro il banconi, c'era il proprietario. Peccato per lui perché gli ho fatto la mosso dell'anaconda, cioè c'è presente le gambe a forbice proprio che è intorno al collo. Poi a un certo punto è suonato l'allarme e niente, l'unica via di fuoco era il tetto. Oh, dai, ma che non si può più scherzare? Certo che l'ho comprato. Sono stanco, Katia. Succedono troppe cose qua fuori, non ci sono più abituato. E' tutto troppo veloce, oh. In carcere per legge il giornale ci metto due giorni. In carcere fa diventare stupidi. E ti vuoi stare con uno stupido? Che cos'è peggio? Se dico di sì o se dico di no? Se tu non fossi malata, ci staresti con uno condannato. Danilo. L'unione sublime di due anime non conosce barriere, perché l'amore rivoluziona il tempo e lo spazio conosciuti fino a quel momento. Oh, Danilo. Trent'anni, un secondo, una vita. Che differenza c'è? Oh, Danilo, Danilo. A che mi servono le gambe adesso che posso volare? Danilo. Si possono mettere condizioni al destino? Oh, mio amato. Hai finito? A domanda fessa. Tu mi avresti guardato? Se non fossi stato obbligato. Avevi già deciso prima di incontrarmi che la donna della tua vita doveva avere la distrovia muscolare? Non credo. Certe domande non servono a niente. Grazie, ma felice che sia andata così. Anch'io. Dottoriero? Oggi è lunedì, io e te abbiamo un appuntamento, ti ricordi? Sì, sì. A dopo. Alla dottorista Pontozzi, assistente sociale, soggetto. Mi tocca andare. Ieri è venuta Damiela Pontozzi. Con la Cotacchi L'Ocardati? E che ne so se c'è da Chilopardati? Ma com'è che ne sai? Ma se quella se li mette a posta per te? E pure la miniconda. Torriero, quando hai bisogno chiamami. Ma non è venuta la teggiallone di scorso? A Cade è quella che fa l'assistente sociale, lavora lì. Non è che vi è da me. Comunque, mi volete... Ma che sei gelosa della Pontozzi? No. Però quella di si scoperebbe come. E io ti faccio 50 anni, ma come ti viene in mente? Vabbè, insomma, vuoi sapere che mi ha detto o no? Dimmi. Ma ho trovato un lavoro per quando esco. E ciò è che il lavoro è? Il portinaio. In un palazzo che io non ho capito se è del marito, se il marito ci fa l'amministratore. Vabbè, comunque, non è che gli devo dare la risposta adesso, perché si parla di rifare qualche anno. Poi Miriam dice comunque che c'è la possibilità di una pausa. Miriam! Ma la chiami Miriam? Nadia, e come la devo chiamare? Come cazzo è che ti chiama, eh? Come cazzo è che ti chiama? Mi fa di schifo. Allora, guarda un po'. Come mi chiama? Vaffanculo! Vaffanculo! Dimmi che mi ami. Peccato. Montiamoci sopra più bene adesso. Mi sposi? In chiesa, se no non mi sembra di sposarmi. E poi chi si sposa in chiesa c'è il dovere di fare figli. O almeno di provarci. E magari tra qualche tempo ti danno una libera uscita. Se certate che sta qua da voi è simpatico, si chiama da un po' Lino. Ma chi se ne frega se è simpatico. Cruce, devi sposare e basta. Mettimela. Ma te la sei regalata da sola? Ma che ti cambia? Mettimela. 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 Non ce la farà neppure se fosse stato almeno ricco. Forse se ne sarebbero fatti una ragione. Ma era pure uno spiantato, tuo padre. Pensavano seriamente che fossi cretina. E me lo dicevano in tutti i modi. E più me lo dicevano, più volevo fare di testa mia. Infatti lo sposarono. Poi le cose, come sai, hanno preso una strada diversa. Lui se ne è andato presto. Sì, ma con una più grande e più brutta di me. Tutto questo per dirmi che sto facendo una cazzata? No, non una cazzata. La più grande cazzata della tua vita. D'altra parte se non la facessi lo rimpiangeresti per tutta la vita. Ma se io non ti desse la mia approvazione, che faresti? Sposerai lo stesso. Un buon motivo per approvare. È quello, eh? Quello col cappelletto. Mmm, bruttino. Fatta in televisione pareva molto meglio. O gli ho dato la caccia per un mese. Non è che poi quando l'ho visto dal vivo gli potevo dire che è una chiavica. Ah, la cavallona ha laggiù la sua fidanzata. Tipo l'attrice o l'Avelina, boh. Come l'hai beccato? C'è una che viene al centro estetico da me, che c'è la sorella che va a servizio dal medico della squadra. Vabbè, per fartela breve, sono riuscita a fargli avere la canzone... Quella di Renato Zero, magari. Noina un po'. È anche la sua preferita. Quando è destino. Io infatti ci crede molto, eh, queste cose tipo il karma. E mi ha voluto conoscere. E con la cavallona come la metti? La guerra è guerra. Magari toccasse a me Prendermi cura dei giorni tuoi Svegliarti con un caffè E dirti che non invecchi mai Magari Chi è? Danilo Ci sposiamo Io come un'ombra ti seguirò La tenerezza è un talento mio Non ti deluderò La giusta distanza io Sarò come tu mi vuoi Ho un certo talento anch'io Mi ami? Sono felice Sei sicura? Io ci metto sempre un po' a capire le cose, lo sai? Sono felice davvero Ci voglio bene Cazzo anch'io me voglio sposare Ok Ora pensiamo al regalo Firma questi documenti e smetti di dire cazzate E poi? Che cos'è che ti sfugge Danilo? Vabbè io filmo questi fondi E ci sposiamo E poi? Diventiamo marito e moglie E poi? Se volevo uno Che prima di fare una cosa Pensava al poi Non sceglievo te Ti è chiaro il concetto? Ma non è chiaro Ma mi scherchi che cazzo è successo dall'ultima volta? Quella in cui mi hai messo l'anello Non so se te lo ricordi Escludendo che tu possa aver conosciuto un'altra Dopo l'ultima volta che ci siamo visti Io ho chiesto di fare i servizi Che in pratica vuol dire pulicessi Qui si trova a non fare è considerata una grande botta di culo E io ci ho avuto culo Ci trovo mezzo metro di merda per terra e pure smuri Però pulisco e sto zitto Perché spero che quel bastardo che ce la mette Il commissario Cernò Perché tanto lo so che lui Dice all'assistente sociale quanto sono stato bravo a pulire L'assistente sociale lo dice al direttore Che lo dice al giudice Che lo dice a far cazzo da velletri Che magari fra un paio d'anni Mi darò uno sconto di pena Non lo vede per farselo da pulire la merda Non è un uomo Ecco che è successo Che cosa vuoi che faccio? Devo consolarti? Devo commiserarti perché la vita in carcere è dura? Dimmi che cazzo vuoi che faccio? Io lo faccio però poi Tu mi fermi questi documenti Katia Quelli come me non si devono sposare Strappali Sono qua strappali Ma vaffanculo Va a torriè Un uomo rimane un uomo Anche se pulisce la merda a quattro zampe Ma se scappano Se scappa non è un uomo No Toleranza Rispetto Amore per il prossimo Sono queste le parole di Cristo nostro Signore Ed è questo che Danilo e Katia dovranno insegnare ai loro figli Con il loro esempio Anche se a noi uomini è concesso alle volte di sbagliare Soltanto Dio poi alla fine avrà il diritto di giudicare Nel frattempo Danilo e Katia dovranno accompagnare i loro figli Finchè non sapranno camminare con le proprie gambe E a noi è l'amore di Danilo e Katia che interessa Oggi che rimanga puro e indissolubile Perché non c'è cosa migliore per una coppia di invecchiare insieme Che signore benedici questi anelli non si ha E gli sposi li porteranno a custodiscono integrare la verità Che rimangono nella ponte della pace vivono sempre Per Cristo nostro Signore Amén Mi dichiaro marito e moglie Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo Amén Amén Potete baciare la sposa Dottoressa Voltozzi Signora Toriero Tanti tanti auguri Grazie Anche da parte del direttore E su questo matrimonio gli ha procurato delle altre carte da fermare Mi dispiace Grazie mille Va via A voi Grazie 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 Bene Grazie Come ti chiami? Mario Giorno bello io e Rosy che faccio? fai l'uomo Table il Le il un il A che manio? Dammi un vaso. Mamma ti ha preparato il pacco da portare via? Ti ha messo anche le melanzane sott'olio e una pizza di ricotta. Quella basta che la scaldi. Ah, ti ho preso anche le gocce per dormire e il deodorante. Nel primo cassetto del coro ci sono le calze di spugna che mi hai chiesto. Non c'erano nere. Non c'erano nere. Non c'erano nere. Hai mai visto quello sopra? Ma qua dobbiamo andare. Non c'erano nere. Non c'erano nere. No. Non c'erano nere. 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 katia katia è successo qualcosa signora tutta posto katia katia oh riesce a sentirmi katia signora signora oh signorina tutta posto signora mi ferira si vai chiama l'ambulanza devo avvisare il che si vuole tirare il caso di portare sul letto arriva quest'ambulanza sta arrivando l'ho chiamata penso che prendete dov'è non si trova non si trova si è calma signora sta arrivando l'ambulanza tranquilla eh bene ferma aspetta chi è aspetta ferma ferma va prendi le chiavi dai 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 oh non le trovo rosa ragazzo non ti arrabbiare dai dai come non mi arrabbio dai non ci stanno ma che non ci stanno ma ho capito cazzo stavola ferma c'è nessuno magari un collega che ne so una copia ma che cazzo stai a dire Ma che cazzo stai a dire? Non ti stai arrabbiando Ma che non mi arrabbia? Non so stanno Stavamo a dirti Stronzo 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 Venga, le faccio vedere la dinamica Il vostro caposcorta, dov'è? Gli è corso dietro? No, gli è corso dietro l'assistente capo vitale Agente, che succede? Eh, quel bastardo è scappato Torriero 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 Scusate se interrompo C'è un vostro collega al piano di sopra Che ha bisogno d'aiuto Dice se può salire qualcuno Lui Insomma, non si può muovere No, 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 non si può muovere Ficец A presto Manette Che significa? Io sono il cattivo tu sei la guardia Mi hai preso Tu me vuoi fregato, niente La vita se te vengono fregato scappavo a piedi Ma diciamo che mi volevo sgranchire un po' le gambe Poi un uomo che scappa non è un uomo, l'hai detto tu, no? Dai, mettimi ste manette Così a te te promuovono E io magari la smetto di far cazzate E dai Ne faccio le cazzo, mettimi ste manette Dai, mettimi ste manette e ti rilassi Io in cambio ti chiedo solo una cosa Un quarto d'ora Voglio scrivere un lettera a Katia E per una volta voglio che non apri nessuno Dai, vi dà? Dai Che è un quarto d'ora? E poi ce ne andiamo Chi ce ne ha perso le carte? C'è un foglio della relazione di servizio Dove riconsegna insieme alla volante Vabbè, gli dico che ho perso durante l'inseguimento Grazie, vita Va bene La vita Ma a te ti piace sto modezzaio? Ma lo sai che è pure a me? Amore, te l'avevo detto di lasciarmi perdere Ma tu niente E a nonna dice che sono nato con la luna all'incontrario Sai quando la vedi di giorno e scompare di notte? Non lo so che vuol dire Però le uniche cose che mi riescono Sono quelle che non si devono fare Tu questa cosa l'hai capita Infatti mi ha organizzato questa fuga Ti sei comportata come una vera donna di un bandito E' stata grande Ma quando leggerai questa lettera Io sarò tornato in carcere Così ho deciso Pensi che sono fuso di capoccia? Se lo so non mi importa Perché in questo modo non posso perderti Mentre se devo nascondermi tutta la vita Perché mi cercano ti perdo E anche se faccio il portineo dalla Pontozzi Mi sa che ti perdo lo stesso A proposito Lo so che non sei gelosa di quella Me l'hai detto solo per farmi sentire importante Dato che se no non riusciva a scoparti Ma però l'abbiamo fatto Hai visto? Io della libertà senza di te non so che farci E poi in finale lo sai che c'è? Tutti dicono che la galera è un inferno Ma qui si capiscono un sacco di cose Anzi un po' di galera Io la metterò obbligatoria Senti che ti dico Una volta sul muro di una cella Ci ho trovato scritto Se stai in un tunnel E non c'è via d'uscita Arreda C'ha ragione quello La mia vera vita è cominciata in carcere E' qui che ti ho conosciuto Ed è qui che ho visto per la prima volta un orizzonte Dentro sti muro Dichiaro imputato colpevole del reato di cuore L'articolo 387 del codice penale Per avere nell'esercito delle sue funzioni Ragionato per colpa alla passione Del detenuto Dorriero Danilo E lo condanna alla pena di tre anni Messe quattro di riduzione Oltre il pagamento delle spese processuali Senza il beneficio di legge La mia vera vita è la mia vera vita Lì fuori la gente si sceglie Ognuno cerca chi gli somiglia Qui no Qui chi arriva arriva E devi usare il cervello se puoi farti capire Ma se non ce l'hai il cervello alla fine ti viene Ma queste cose che dico Prima di conoscerti Io non le avrei mai dette Ne manco pensate Le parole non mi fanno più paura La vita è bella Perché qualche sorpresa c'è sempre Caro pezzo di Merda Dai Chirzo Caro Cerno Ma c'è un nome? Boh me l'ha detto Però non me lo ricordo Prova Carlo? Ma come prova? O lo metto o non lo metto? Va bene Me lo facciamo Caro Amore Tu però mi devi aiutare Mi devi dire qualcosa di lui Una qualità È intelligente Come una triglia Mani Uno sguardo Quale l'odore? Il coso come se l'ha? Medio piccolo Ma mi dici che cazzo ti piace di questo qua? Non lo so So solo che il giorno dopo pensavo a lui Al fatto che sta in galera per causa mia Ti senti in colpa No per niente Anzi mi piace l'idea O per la prima volta la vita di qualcuno dipende completamente da me La sua felicità, la sua libertà Tutto da me O a me sta cosa mi toglie il fiato Caro amore mio Probabilmente tu ti svegli ogni mattina Ti guardi intorno e mi odi per quello che ti ho fatto Beh, fatica sprecata Perché tanto sei io Se la nostra vita dipende da qualcun altro Non ci conviene obbiarlo Fidati Tu anche se non lo sai già mi ami Perché l'ho deciso io PS Sei la più bella del mondo Ah, mi stavo dimenticando Appanna lo specchio del colore Tuo, Daniele La, mi stavo dimenticando Grazie a tutti.